Devo dire, come ho spiegato, che la vivo veramente diversamente di anno scorso. Si decide il presidente di esonerarmi, mi piacerebbe il cuore, il senso che io vedo squadra che fa quello che deve fare, che può ancora crescere, che i giocatori crescono, che poi lui prenderà decisioni. Due punti, tristezza, non lo nego, però quello che vedo sul campo, sia a San Siro, sia a questa, è tutta altra roba, la squadra merita veramente, nettamente di più. Mi dispiace molto per ragazzi perché quando fai prestazioni di igiene a San Siro, poi perdi, oggi ancora di più, ti abbattico anche un clima magari non stra positivo da una parte del pubblico, però ragazzi tanta roba oggi, veramente bene. Non ho paura di questa cosa, si succede, se no molto concentrato su andare avanti, come cresce.